Siamo nel primo momento, sono tutti i pali da pastore. Abbiamo sia pastori guardiani che pastori conduttori in questo raffrontamento. Allora, la signora è un'unica di questa mattina, facciamo un nuovo evento, due giri in circolo tutti insieme per parlare dei soggetti e poi dopo la signora deciderà il podio. Pronti? 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 Per rooms? Giustatti Adesso Allora, diciamo per il poso al terzo posto, pastore tedesco Al secondo posto, pastore seccese Viste, pastore australiano